Vi ricordo che se vi piace Fortnite andate sul Playstation Store e scaricatelo perché è completamente gratis Buongiorno ragazzi e bentornati su Fortnite, sono completamente da solo, qui un altro è atterrato sul mio tetto Maledetto, allora, vediamo prima di prendere qualche arma, anzi gli rubiamo anche i due fucili così non ha assolutamente nulla quello Mi sa che anche lui... eh sì, è andato per la cassa, bene Quindi vediamo di luttare un attimino qua attorno e lo aspettiamo E che cavolo! 18 di vita mi ha lasciato Prendiamo che cavolo... eh aveva la R verde cavolo Porca vacca, con un colpo Ho sentito qualche... Porca vacca, anche te 18 colpi con l'armatura? Oh, finora non ho trovato l'armatura raga eh, sono fregato Buono, buono e prendiamoci questo qua blu Ok, colpi in lontananza Eccolo Buono Magari ne arriva un altro Con tutti quei colpi che si sentivano Allora, vorrei il medikit Però Sento dei passi Ma cosa che ti ho levato tanta di vita con quel cavolo di scudo Ed eccoci qua Secondo tentativo Io devo trovare lo scudo raga Perché come avete visto Si è invincibili con lo scudo Allora, qua su Sento una bella cassa Quindi, vediamo un attimino Perché dai, che cavolo Gli ho sparato una fucilata Che gli ho levato 30 Poi 80 L'ho lasciato con 17 di vita Cioè, non si può avere che di sfortuna Un R verde, ottimo Il camperone, cavolo, sui tetti, no? Lo spazzacamino di Fortnite è quello Allora Non è stata alluttata sta casa Bene Sento anche una cassa al piano di sopra Interessante No, qua non c'è niente Allora faremo qua la scaletta Sperando un po' l'altro lì Non mi spari dalle finestre Allora, vediamo un attimino in sta cassa Se riuscirò a trovare sto cavolo di scudo E la pozione è nostra, ragazzi Non ci fermerà più nessuno E qua vedo altre 5 guards Così abbiamo 10 Ottimo Più un medikit La R verde, raga Però c'è ancora quello là Grazie per essere morto dopo un caricatore Adesso, come vedete, sto cercando di imparare a sparare alto Soltanto headshot Anche questa non è stata luttata Medikit E cassa E qua c'è qualcuno, l'ho visto Guardate Scusa, anche quello Perfetto Headshot Via con gli headshot Dovete andare, raga Qua luttiamo tutto Non penso ci siano altre persone E avanti Così Subito così, raga Non dobbiamo perdere manco uno scontro a fuoco, qua What? Da dove? Dalla casa Dal tetto Cosa? Merde, in due o? Ah, ecco Merde, in due, raga Quelli o che cosa? Perché a un certo punto Ho visto tipo due persone Uno anche con un fucile a pallettoni Qua c'è un'erma Non la vado a rischiare io, raga Siamo fuori dalla safe Quindi mi medico E leviamo le tende Buono La uno corre Dai, però Anche lui con lo scudo 105 ed è ancora in vita Bisogna imparare Perché qua i colpi sono molto, molto lenti E adesso quello scappa E noi Lo lisciamo Bene Allora Qui qualcuno Mi stava Dai Che cavolo Ho preso Vabbè, raga I colpi mi vengono fermati Da Dai, dall'albero Ma non ci credo Dalla foglia dell'albero Dai, utilizziamo sto medikit E via Qua ce n'è un altro Almeno quello Questo riusciremo a farcelo Perché quello di prima, raga Oh La Finalmente Quello di prima Gli ho sparato Non mi ha dato Boh, niente Comunque quello là Deve pushare Perché noi siamo ancora in safe Però mi piacerebbe Pushare un attimino Più avanti Magari andare Proprio dentro Alla zona Dentro una casa E barricarmi Tanto un po' di materiali Gli abbiamo Ah c'è una barricata Qualcuno si stava proteggendo O è quello di prima What? Terzo E ultimo Tentativo, raga Questa volta Atteriamo Sulla Casetta Qua in mezzo Al lago Non vedo Uno Due Almeno Uno sicuro Viene qua Quindi noi Passiamo Qua dal portico Che in teoria Ecco qua Già la prima Armozza Luttiamo Velocissimi qua E ci diamo Alla fuga Ragazzi Colpi Così non c'è nulla Le garze Perfetto Andiamo un attimo Al piano di sopra Controlliamo Se c'è qualcosa La cassa L'ha presa lui Là ci sono le munizie Ottimo Ok E ok E direi adesso Di levarci dalle scatole Ok Eccone uno là Eccone uno là Non mi ha manco visto Ok Ha un sputo di vita L'ho colpito due volte Oh bello What? E questo? Che mi corre così? Vabbè Qua la gente Veramente raga O non so Che cavolo Piliamoci Sto qua 140 colpi Allora Qui c'era uno Che mi stava sparando Porcellino Vieni qua Adesso utilizziamo Questo cecchino blu Eccoti là Così impari Maledetto E andiamo Alla safe Che è vicina Ma che cavolo Sono realmente Morti tutti? Cioè questa è l'intelligenza Delle persone Che ingaggiano Un combattimento Restando nel gas Va bene Vedo Nessuno scaracca Vedo cecchino Viola Fucile a pompa Viola Cecchino Leggendario Però quello è forte No Non la rischio Mi tengo I miei 100 punti Di vita Nulla di importante Un drop Vicino Porca vacca Lo scudo Poi Un altro muro Vogliamo metterne? Facciamogli un flank Raga Questo maledetto What? 80 Porca vacca Hello Porcelli Porcellino La mira banana Ok Porca vacca Buona Buona Scaracca 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 Viola Raga Adesso non ci ferma più nessuno Allora Ci medichiamo Siamo fuori dalla safe C'è il gas Che sta avanzando E vorrei Un po' Anticipare Tutti gli altri Quindi vorrei Spingermi un po' Più dentro Alla safe Vediamo se c'è un cespuglio Magari facciamo un piccolo camping Che l'hanno i razzi Io non ho i razzi Qua siamo dentro Sì ma andiamo più avanti Così abbiamo una visuale migliore su questo qua Perfetto Adesso dovrà pushare quello lì Non vedo nessun altro Questo Da fuori Va bene Ciao 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 Ciao